buongiorno e benvenuti in questa puntata di pillole di efficienza anche oggi parleremo di composizione corporea perché do tanto peso a questo aspetto da tanto peso perché è compito mio quello di educare all'importanza di possedere un certo equilibrio negli elementi che costituiscono il nostro organismo in questa società siamo tutti un po ad armati e spesso per motivi estetici dal fatto di avere del grasso in eccesso o meglio lo siamo anche per motivi funzionali tutti chi più chi meno sappiamo che avere troppo grasso nuoce la salute poi ognuno prenderà le sue decisioni riguardo se fare qualcosa in merito o meno sta di fatto che nel guardarsi allo specchio tutti vorremmo avere un po di grasso in meno il secondo aspetto legato alla composizione corporea spesso quello legato al peso corporeo siamo tutti allarmati dal fatto di pesare di più di quello che pensiamo possa andare bene anche se penso che ben pochi abbiano un vero metodo alla misura per definire qual è esattamente il peso corporeo che va a definire se il nostro corpo in salute o meno ma in realtà la composizione corporea non è solo una questione estetica può anche esserlo per carità la composizione corporea è un fattore prettamente funzionale il fatto di avere più grasso in eccesso di avere del grasso in eccesso piuttosto che avere troppo grasso infiammatorio il grasso non è tutto uguale non è solo come ripeto una questione estetica ma soprattutto una questione funzionale nuoce alla salute il nostro corpo non funziona più come dovrebbe nel qualche caso ci sia troppo grassi in eccesso ricordo che la composizione corporea non è solo l'adattamento che il nostro corpo ha al nostro vive ma diventa anche non solo una via efferente ma anche una via afferente o meglio il nostro corpo nel momento in cui raggiunge un certo status nel qualora questo non sia in un certo equilibrio deciso da madre natura comincerà a inviare al sistema nervoso dei segnali come le lucette sul cruscotto dell'automobile dicendo guarda che qui qualcosa non funziona il sistema nervoso agirà di conseguenza predisponendo l'organismo a funzionare in un modo diverso che magari non sarà quello che a noi farebbe comodo nell'affrontare o però non ci farebbe comodo avere un organismo che non sta funzionando esattamente come si deve ignorando il fatto che magari questo non sta funzionando come si deve per via del fatto che sta compensando dei parametri di composizione corporea non idonei alla situazione il secondo aspetto che invece non viene valutato e anzi al quadro non viene dato giusto peso è il fatto che qual è l'importanza che ha la massa muscolare nella composizione corporea nel guardarsi allo specchio come dicevo è lampante capire se abbiamo meno grassi in eccesso almeno lo è per quelli che sono i nostri canoni estetici dettati in questa società sta di fatto che se abbiamo troppa ciccia sulla pancia lo si vede o dal fatto che la camicia non si abbottona più come si deve i pantaloni stringono troppo o dal fatto che davanti allo specchio vediamo l'anguria che esce dai pantaloni riguardo alla massa muscolare è ben difficile di fronte a uno specchio valutare se la quantità di muscoli che abbiamo è sufficiente alla situazione che stiamo vivendo in questa società e qui si aprono mille porte mille interrogativi quanta massa muscolare devo possedere perché questa si idonea alla situazione ebbene ci sono parametri ben definiti che la scienza ha ben definito parametri misurabili con apposita strumentazione che vanno assolutamente presi in considerazione perché perché spesso il concetto di massa muscolare non viene preso in considerazione perché si ignorano tutte le conseguenze che ne conseguono scusate gioco le parole del fatto di non possedere un'adeguata massa muscolare da quelle metaboliche quindi un abbassamento del consumo metabolico giornaliero a quelle funzionali tipo la risposta insulinica tipo la termoregolazione tipo la locomozione stessa tipo la postura sono tutti aspetti legati a quanta massa muscolare o meno abbiamo o meno a quanta forza muscolare o meno abbiamo o meno e quanto è efficiente il nostro apparato muscolare quindi nel concetto di composizione corporea se il grasso va preso assolutamente in considerazione perché non deve essere né troppo né troppo poco altrettanto i muscoli la massa muscolare deve essere presa in considerazione perché se è troppo poca purtroppo ne paghiamo le conseguenze e le conseguenze sono rappresentate da una mirida di sintomi che spesso ignoriamo ritenendoli quasi normali o ai quali non diamo il giusto peso o addirittura non colleghiamo il fatto che questi sintomi sono correlati al fatto che la massa muscolare non è adeguata alla situazione alla prossima puntata